Non hai nulla, ma le mani resta faccia, rete, intelligato, vero, vero, vero. Quindi immagini sparerontate e patardo immagini scusate, quindi immagini scusate, di contenuti. Statute a voi stendete, su mensi ai carte ofertenta essi. Agents peri, salutem un secchio possum, non agents non peri, per che chiamatris nostri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.